Rispetto a tutto il pregresso di X-Factor, dove la bellezza di una voce vinceva sopra un'urgenza espressiva, sopra una peculiarità, quest'anno, più di ogni altro anno, non ci ha colpito più di tanto la perfezione vocale, la tecnica, ma di più un'imprecisione che rende a percepire un'unicità nel concorrente. Quindi molto spesso sono passati concorrenti vocalmente non perfetti, a scapito di concorrenti che non sono passati che vocalmente erano perfetti. Ci tenevo solo a dire una cosa, che come è stata presa questa giusta scelta di voler sostituire Asia in funzione, a tutela dei concorrenti, io sono sicuro e spero che il quarto giudice sostituto verrà preso sempre con lo scopo di voler tutelare i ragazzi, non di voler fare meno spettacolo.